Casi umani, questo è il titolo dell'ultimo libro di Selvaggia Lucarelli presentato a Cosenza nel Box Art Museum, nel complesso monumentale di San Domenico, e un ironico scritto di vita vissuta attorno a relazioni sentimentali con uomini che appunto sono annoverabili in quei casi umani che se li conosci li eviti. Ne ho incontrati molti, diciamo che nel libro ne ho messi una decina più o meno, ma ne ho scartati almeno 100-150. Diciamo che i social network sono un po' una sorta di pungible, di luogo in cui si scatenano e si incanalano tutte le nostre frustrazioni e io combatto strenuamente contro questo tipo di casi umani. Selvaggia Lucarelli è rimasta favorevolmente sorpresa dalla bellezza di Cosenza, una città che non conosceva e che ha avuto modo di apprezzare. È una città molto carina, ha un bellissimo corso. Non la conoscevo, mi hanno spiegato che c'è un sindaco molto attivo in questo senso, molto esteta, essendo un archistar, che quindi ci tiene molto ad abbattere con mostri, a sistemare piazze, eccetera. Quindi è un po' un cantiere aperto in questo momento, ma può essere un buon segno, no? È un po' una donna che va dal chirurgo, i primi giorni è un po' così, poi dopo è tutta rigenerata, rinfrescata.